Musica Hi people of youtube Welcome back to the new episode of Saints Row A parte gli scherzi benvenuti in questa nuova puntata Ci siamo lasciati le scorse puntate Con noi che abbiamo rapinato un treno Abbiamo liberato un Uali Ce lo siamo fatti amico Il punto è che io ho questa brutta sensazione Sono sicuro che si avvererà Credetemi La nuova missione di oggi è Diamoci da fare o amore per l'arte Diamoci da fare Ci da più soldi Dove dobbiamo andare? Qua Torno all'ovile Arrivo arrivo Eccomi qua dai Non ero lontano Ma c'erano Uali sulla porta L'ho appena visto ma che figo We got the name We got the space We got the logo We got the employees And we got the fucking money Yeah! Which means there's one thing left to do How do we make a statement? Well, uh, we just robbed a money train And killed Sergio in a particularly horrific fashion Oh, so you ripped out Sergio's heart I was there for moral support It doesn't matter Cause word on the street is that the Nawali was a one man wrecking crew The Saints didn't get any shine from the heist So, we're gonna need something that establishes us as an institution Un bel casino All right, so we need to do something that says We're not going anywhere Come at us Exactly We steal the hummingbird codex Marshall wanted to protect it Panteros and the idols wanted to steal it And if it wasn't for that fucking book We wouldn't have formed the Saints It should be ours Bella idea Bella idea del cazzo I figured we'd just go in with a bunch of guns And kill the shit out of everybody But if we want to do some heist movie stuff I can work with that Bravo Sounds good Va bene, le pistole ci stanno bene Vanno bene, sempre bene Ok So, the idols hide their stolen stuff in an abandoned boat shop Under the boat shop They've got stash houses all over the city I figured the codex is probably there Because it's closest to the museum And it's practically next door to us? I know Stirling the codex is going to be the easiest Ne dubito che sarà facile Però Non penso neanche che sarà la missione più difficile che abbiamo fatto Fino ad ora non penso di aver avuto nessun tipo di difficoltà con nessuna missione Sincero Ecco fatto Aspetta che Ma dai Sei teletrasportato L'ho visto Esci Aspetta L'ho attivata E là È il potere speciale dell'arma Perché ho finalmente ucciso Uccidiamo le acchi bladate Ho finalmente ucciso doppie uccisioni Della Marshall Però non mi ricordo se sono andato in un negozio di armi ad attivarla Che coglioni al neon Vieni qui Madonna mia Allora C'è da dire Che il keyblade Per meglio dire Il piccone Scusami Non è male come arma Il punto è che È lento È veramente lenta Come arma Ma smettere di farti le foto Idiota Ok Ma a parte che sto posto Cos'è Uno stand dell'Ikea Che Che è aperto sopra E ci sono i muri E i lati Aspetta Ecco fatto Credo di non aver ucciso ancora nessuno specialista No aspetta Lui forse è uno specialista Yes È uno specialista lui Perfetto Me l'ha contato Ottimo 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 FPW Che cazzo dice Che è ogni tanto Ecco fatto Io continuo ad attaccare con questo Perché Mi serve livellarlo Ma smettia di fare Efficiente Vieni qua Ecco qua A posto Siamo sempre uno di specialisti Va bene Per il momento Curiamoci Non vedo Dove cacchio è Uh Specialista Dai Smettila di muovere Quei cacchio di Non c'ha Conta Yes Due specialisti Gli idols sono Gli specialisti perfetti Da uccidere Perché sono Quelli meno potenti Cioè o meglio Belli Bello Tutta la roba che hanno rubato Non male Tutta la roba egizia Tanti forni a microonde Tante statue Questa la voglio anch'io però Di stato Perché non posso fotografarla Eccolo qua Il codice del colibri Che è appena Scivolato giù Ah ok Non ti vedevo Scusami E' una bomba E' una bomba Cosa devo fare Ti giuro che non ho capito Cosa sia appena successa Forza sfigati Aprite Madonna mia Kingdom Hearts 4 Ragazzi Dai E stai buona Cretina Ecco fatto Ma neanche Esci dalla combo Meno male che avevo L'abilità che mi ha ricaricato la vita Quastro Perfetto E' scivolato Vediamo crepa Per il sanguinamento Secondo voi Perfetto Abilità sbloccata That yacht's guarded AF Dude Did you just say AF Yeah An abbreviation First We fucking swear all the time Second It's only an abbreviation When you text AF AS FUCK Same number of syllables Dumbass Dumbass Fine This is gonna be an epic statement Because that yacht is guarded AS FUCK And every damn one of them Is gonna learn what happens When you try to blow up a saint Hells yeah Questa è una rampa Si è una rampa Ma dai We're gonna want a different way back It sucks to get the codex wet Oh che succede Go home for a ride Volevo fare un salto Io mica cadere Hey Nina And you send a helicopter To pick us up From the collective's yacht Are you too crazy Che succede Let me see Who are you Cosa è successo What are you gonna do Swim all the way there You'll destroy the codex Allora Forse avrei dovuto far finire Di parlare a cab Ma Sono passato sotto Dio mio Eccoci qua Siamo spawnati Let's go find the codex I'm sorry Did you think You were safe here Le armi che sto avendo Più difficoltà A potenziare la speciale Fucili a pompa E i fucili I fucili Perché hanno tutti Questa cazzo di abilità Abilità a sbloccare Con l'ultimo caricatore Tu non sarei mai Mai a corto di munizioni Con sto gioco E uccidere tre Cazzo di persone Se non c'è un'orda È impossibile Forse però Ora c'è un'orda Speriamo Controlliamo subito Posso entrare? No Ovviamente Mi servono delle scale Qualcuna delle scale qui? Ovviamente Aspetta Allora Aspetta Che la Abilità si ricarica Vediamo se posso farlo Anche dal basso Allora Si Ed è Una roba Rottissima Fare questa cosa Mamma mia Ci stiamo Già liberando Il passaggio Così Ti immagini Se poi rispondano Dove è? Fatto Stato semplice Sono molto soddisfatto Del risultato Rimettiamo Il fucile A pompa Eh ma vedi È difficile Fare uccisioni triple Io tengo Sto fucile a pompa Perché è buono Alla fine Però Fare tre uccisioni Di fila È difficile Non hai mai Così tante persone Tutte assieme Preso E ovviamente Non sei minimamente Distrutto Ovviamente Come salgo Di sopra Da qua Ci sono le scale Ah tra l'altro Potenziato Come si chiama Il lanciarazzi Almeno fino ad ora Può fare molti più danni Credete che li ho uccisi tutti? Secondo me Sì 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 Sono quelli di prima Questi Madonna mia Ecco qua Guarda quanta roba Guarda Quante munizioni Ha gratis Non ti troverai mai Con l'ultimo caricatore A meno che proprio Non lo fai apposta Ovviamente Disinnesca Vai vai Ecco fatto È stato facile Ma Ah quindi era il vero Codex Ecco qua Via Kevin Kevin dobbiamo andarcene Sbrigati Sicuramente Ah ma era Nina Quella Io pensavo che era Il collettivo Ecco No non era Nina Ma era Ecco esatto Due del collettivo In una botta sola Mi fai felice Stasera allora Aspetta Beh è stato facile Preso Che tra l'altro Neanche ce la sto provando A sparare Wow 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 Calmo Perché non riesco A mirargli la testa Dove sta mirando Il gioco Certo Certo Tutto quello che vuoi Collettivo Caro 5 su 6 Non male Non male allora E la bomba è andata Ah shit Kevin Ci conviene muoverci Sbrigati Che poi scusatemi Ma la soluzione migliore Non sarebbe Buttarsi in acqua E iniziare A correre via Cioè scusami Non sarebbe Meglio Iniziare A nuotare Non sarebbe La soluzione Più pratica Kevin Ma Ma sta andando A fuori Ah no è Kevin Why does stuff like that Keep happening to us I don't know Prison rides Derailing trains It's almost enough To make The question Your whole way up Look out I don't know On jet skis With machine guns Let's fuck them up Hell yeah I'm gonna head for home Ecco fatto A posto Ecco Se cambiate di posizione E' orse messa a guidare Quella che era dietro Dai Provateci Ecco E' difficile Quando sei su un tettuccio Tra virgolette Riuscire a colpire qualcosa Niente Ho solo il mitraio Eh Precchi di questo Allora Dai Su su Stronzetti Siete degli stronzetti Colorati Sappiatelo Sopravvivi Con la notorietà Massima Eh beh ci credo Oh 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 Calmi Calmi che io Se Kevin non si muove Sono morto Beh che dire Ma a parte che io Non vedo nemici Ah ecco Li sono apparsi ora Li vedevo sulla minimappa Ma non qua Guardali se ora Non saltano Lo sapevo Dai Provaci a venire Ti sto aspettando E ho un sacco di proiettili Quasi un'infinità Ti direi Il codex è nostro Il codex è nostro Stronzi Ecco fatto Nel momento in cui Uccidi qualcuno Che sta guidando Molto spesso Quello che è dietro Prende la posizione Ecco Fatta Per 180 secondi Speriamo di farcela Allora Dai ti prego Un altro minuto Mi serve Ti prego Kevin rimani Un altro minuto In acqua È esploso Kevin dai No Quanto sarebbe mancato 5 secondi 10 Dai L'hanno fatto apposta Non farlo 180 secondi Oh yeah Eccolo qua Il codex Eccolo Ora leggiamo Che cazzo c'è scritto No No Eh vai Bravi Yeah Bravi Quello il nostro grappo Forse dovrei unirmi anch'io a loro Ecco, quello è bravo Lo sapevo Che complimenti E' bravo lui, è il nostro capo Siamo arrivati al momento in cui ci sparano Ci seppelliscono Io continuo a puntare il mio dito Ho paura Ho paura di chi potrebbe tradirci La Bardados dei Gidols E il codice colibri Ciò che parla e senti illeso, mettilo bene in vista Dove potremmo metterlo? Ci serve un posto che si veda bene E il posto è ancora in ristrutturazione Sentiamo E rispondi Ovviamente Ma non capisco Questa cosa di Prenderci i loro territori Scusaci Scusami un attimo Intendi che se faccio le missioni secondarie E' meno difficile Questo mi stai dicendo? Non lo so Non è ben spiegata la cosa Allora voglio mettere il codex da qualche parte Magari al posto di questo Eccolo qua Potremmo metterlo Vediamo Nei collezionabili Al posto del timone Potrebbe essere una buona idea No si perde tantissimo qui Si perde tantissimo Potrei metterlo qua Ma anche qui si vede poco Non ho un posto adeguato dove metterlo per il momento Vediamo se ci sono arrivati dei soldi Speriamo di sì Pochi Non ci arriviamo purtroppo A un milione e seicentomila Peccato 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 Ci vuole veramente troppo Per arrivare a un milione e sei Per il momento Quindi signori Vi ringrazio tutti Per avermi seguito Comanzosamente seguito Soltetemi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti